Entrano nel suo orto e li rubano tutti i prodotti agricoli e quando è avvenuto in queste ore in uno dei terreni situati nei pressi di via stazione Entro d'Acqua, dove i ladri dell'agricoltura sono entrati in azione, in due giorni hanno portato via circa 10 chili di prodotti agricoli fra verdure varie e piantagioni. Hanno lasciato solo i pomodori, forse perché non troppo ghiotti o intolleranti verrebbe da dire. Fatto sta che il furto messo a segno a discapito di un sulmonese di 82 anni sta gettando nello sconforto anche gli utenti sui social. E sarà proprio l'anziano agricoltore questa mattina ad accorgersi che tutto il lavoro profuso nelle ultime settimane era andato perduto. Nell'orto è stata fatta piazza pulita e l'82enne è intenzionato andare fino in fondo, tant'è che ha sporto regolare denunce ai carabinieri perché è una questione di principio. I malviventi hanno rubato tutto il suo tempo, il frutto dei suoi sudori e questo è inconcepibile. Mio nonno è una persona talmente buona e umile che se ti presenti e gli chiedi due pomodori, due zucchine, due cipolle, due pere o quello che vuoi, lui te le regala pure. Ma andare a rubare tutto quello che lui ha seminato è da infami e vigliacchi, scrive la nipote. Tanto è bastato per suscitare sdegno e rabbia. Rubare roba da mangiare sembrava un reato passaro di moda e invece a Sulmona succede anche questo.